Balordittiva Meravigliosa Trasparente E bella, bella, bella Strepitoso Semplicemente strepitoso Noi vogliamo che la piazza sotto funzioni esattamente come piazza Come fa a funzionare come piazza? Deve avere dei punti che attirino la gente. Ci saranno negozi ci saranno vetrine, ci saranno locali pubblici, ristoranti bar, zone affittate ci saranno temporary shop e ci sarà intrattenimento e musica tutti i giorni fino alle ore 24 per trasformare questa in una piazza ulteriore di Milano la prima piazza civica di Milano Immersa Grandioso Splendidamente milanese Cioè internazionale E' simpatica E' bella, si Strepitoso Semplicemente Strepitoso Qui siamo al 39esimo piano che è il livello più alto Domenica prossima con il Cardinale Tettamanzi metteremo la statua della Madonnina la coppia di quella che c'è sul Duomo e sul Grattacielo Pirelli Mancano soltanto i lavori di collaudo e poi il trasloco e quindi con la nuova legislatura regionale questo edificio sarà utilizzabile Ho già invitato il Presidente Repubblica che mi ha garantito che nel momento in cui entreremo in cui la regione entrerà in questa altra sede il Presidente Napolitano sarà con noi ma già in questi 9 giorni tante autorità e tanti semplici cittadini hanno prenotato la loro visita E' possibile venire tutti i giorni a vedere questa nuova meraviglia che abbiamo regalato alla Lombardia Strepitoso Semplicemente strepitoso Strana! E' tanto, tanto, tanto E' impressionante Stupenda Sì